Sono passati circa tre giorni da quando ci siamo seduti in Consiglio Comunale per discutere della mozione di sfiducia, che non ha avuto i numeri che si sperava per poter chiudere l'esperienza amministrativa e quello che mi rimane è quell'immagine grottesca del Consiglio Comunale quando il Sindaco mette quella maglietta e si rivolge al prete che aveva leso la maestà del Sindaco stesso pronunciandosi contro l'evidente sfacelo che in città regna. Questo mi ha ferito profondamente e so che ha ferito l'intero Consiglio Comunale, tanto che il giorno dopo mi sono sentito in obbligo di chiedere a nome mio e a nome di tutti quanti i consiglieri comunali, al di là delle appartenenze di maggioranza o minoranza o delle nuove maggioranze e vecchie minoranze, chiedere scusa per quel gesto in consulto e chiedere scusa a lui in maniera tale da poterlo fare per tutta quanta la comunità cristiana e cattolica della nostra città, che è rimasta assolutamente basita rispetto ad un modo di fare, e non è la prima volta, che il Sindaco utilizza in Consiglio Comunale. Posso ancora aspettarmi l'attacco diretto e la richiesta, anche essa confusionara, caotica, delle mie dimissioni, ma assolutamente non potevo mai immaginare che potessi arrivare ad utilizzare l'immagine sacra, quella della Beata Vergine Maria, alla quale poi noi siamo ancora, se possibile, più legati per strumentalizzarla in quella maniera indegna, poi sento che si riferiva al Cardinale Seghe, ma veramente mi ha lasciato senza parole, a me e a tutto il Consiglio Comunale, quindi io colgo l'occasione e vi ringrazio di avermi dato questo spazio per dire ancora scusa, scusare a tutta quanta la città e a tutta quanta la nostra comunità, anche da parte del Sindaco immagino, non solo il suo portavoce, anzi tutt'altro, però devo dire che sono sicuro che poi lui si è reso conto di aver fatto una figuraccia di quelle che rimarranno nella storia, quasi come quella del 2018 davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, dove a Torre del Greco si mangiava bene e quindi era consentito di avere quello scempio per la strada, ancora oggi continuo quello scempio. Ale, ai nostri microfoni, il Sindaco ha detto di voler riprendersi in suo posto. Sì, bene, secondo me il suo posto è un gradino sotto di mela, sta bene dove sta al momento, però voglio aggiungere che io sono convinto che il Sindaco che ha un carattere gioioso riconosciuto da tutti, lo abbia fatto soltanto come provocazione, che differentemente ricordarmi che lui mi ha votato, beh, voglio dire benissimo, lo ringrazio per avermi votato e di non essere riuscito a tenere compatta la sua maggioranza quando c'era il momento del voto, senza poi nessuna reazione successiva, ma mi ha votato. Io gli voglio ricordare che non soltanto io l'ho votato, ma io l'ho fatto votare da altre 800 persone circa, quando è stato il momento delle sue elezioni, tra l'altro elezioni dove lui ha avuto un voto fortemente inferiore rispetto alle liste che lo sostenevano, quindi questo ci dà il senso del gradimento del Sindaco sia dal primo momento in questa città, per cui se lui avesse mai chiesto realmente le mie dimissioni, voglio dire ancora più legittimo il mio agire nel chiedere le sue, anzi io che invece sono meno giocoso del Sindaco, sono un po' più serioso, gliele chiedo ancora, la mozione non ha avuto fortuna, anche grazie a quello che si è visto in aula e si commentano da solo, ma continuo a chiedere determinatamente le dimissioni del Sindaco, non soltanto perché la città è nelle condizioni che noi conosciamo, non soltanto perché ha tradito il patto elettorale evidentemente, ma anche per quelle scenate che ho ricordato prima che sono veramente insopportabili.